A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, eccoci arrivati al corso dedicato, mensile, dedicato a un argomento molto interessante e molto importante che chi utilizza il price action trading diciamo che deve comunque conoscere perché comunque la conoscenza porta consapevolezza e quindi nel trading poi riusciamo a essere più efficaci ed è il tema, il topic delle compressioni di volatilità. Bene, vedo che già ci sono un po' di persone presenti e che saluto come sempre quindi un ringraziamento a tutti quelli che ogni volta sono interessati alle tematiche che noi cerchiamo di trasmettere dedicate al trading con la price action Bene, vedo che audio e video mi dite che sono ok Bene, 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 bene Come è iniziato l'anno intanto? Come è iniziato l'anno di trading? È iniziato bene? Per tutto l'anno come al solito ormai da anni comunque faremo questi webinar insieme a DG io li chiamo più corsi perché sono dei veri e propri mini corsi di un'oretta dove possiamo discutere di tematiche molto molto interessanti io spesso approfondisco molto in questi corsi io ho iniziato l'anno direi discretamente bene sono contento ma per fare bene come sapete c'è sempre bisogno di un corretto approccio mindset un approccio mentale al trading dove obiettivi, gestione del rischio, gestione del portafoglio c'è un sacco di cose che vanno inserite per far sì che poi si riescano i risultati quindi non è solo oggi noi parleremo di una dinamica di prezzo ma ricordiamo, voglio introdurre così questo corso non è solo quello anzi spesso la dinamica è quasi l'ultima cosa che si va a vedere per poi decidere se fare un trade o meno va bene? quindi con questa introduzione voglio iniziare perché mi capita non dico spesso però mi capita frequentemente che al telefono con qualcuno di voi magari mi dite sono dieci anni che faccio trading e ancora non riesco ad essere continuativo costante nei risultati e lì c'è da lavorare ma c'è da lavorare più che altro dalla parte dell'approccio diciamo più nostro umano nostro e noi di Airforex da ormai svariati anni facciamo dei percorsi ad hoc abbiamo proprio l'ultimo di questi che faremo questo weekend due giorni dedicato esclusivamente alla gestione emotiva non chiedetemi se ci si può iscrivere eccetera non ci si può iscrivere ormai è stato già creato tutto quindi mi raccomando io oggi parlerò di questo tema che è più dinamiche di prezzo ricordatevi che per fare un trading efficace ci vuole anche tutta la parte insomma dedicata alla gestione insomma delle nostre comportamenti delle nostre azioni le nostre emozioni e tutte queste dinamiche molto 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 importanti se volete ovviamente fare diciamo degli approfondimenti sapete che potete tranquillamente andare nel nostro sito ormai attivo dal lontano 2010 siamo online con questo sito airfox.com dal 2010 anche nel canale youtube siamo attivi dallo stesso anno con tutte tematiche riguardanti appunto il nostro approccio al trading qui trovate anche un blog trovate un sacco di cose interessanti da poter leggere gratuitamente insomma ci sono un sacco di materiale quindi se volete approfondire potete tranquillamente andare su questo sito bene adesso che ho fatto questa introduzione sono passati i primi cinque minuti molte persone sono riuscite anche ad arrivare ad entrare adesso possiamo invece noi addentrarci su quella che è la tematica di oggi che ripeto è una tematica molto interessante per chi fa price action e sono le compressioni di volatilità voi sapete io tendo a utilizzare molto poco se non quasi in modo nullo le slide tutte queste cose qua ogni tanto le ho fatte per semplificare la vostra capacità di apprendimento nel momento in cui mi ascoltate però assolutamente adesso ci abbiamo i grafici quindi dobbiamo guardare i grafici e io farò assolutamente esempi dedicati al trading attraverso il grafico in questo caso di euro-dollaro che meglio si addice non l'euro-dollaro ma il grafico e questo tipo di diciamo teoria legata al pratico meglio si addice al mio modo di spiegare quindi anche voi a capire le cose a questo punto quindi prima di tutto andiamo a capire che cosa intendo io per volatilità non è che cosa intendo io che cosa dice Treccani riguardo la volatilità cioè che cosa è la volatilità per Treccani quindi non solo per Arduino il come dire il significato di volatilità per Treccani è la misura della variabilità dei prezzi di un asset di un titolo di una valuta di un indice negoziato in un mercato ufficiale in un mercato ufficiale quindi è la misura della variabilità dei prezzi io personalmente utilizzo molto la volatilità anche appunto sul tema che sul tema della struttura e se io volessi spiegarvi in maniera un po' meno Treccani la volatilità vi potrei far vedere un grafico e la capireste meglio cioè anzi vi faccio vi faccio un disegnino prendo la matita qui la pennetta vediamo se riesco sta aprendo ecco qua allora la mia pennetta dice questa qui è la barra di oggi misura 100 pips questa qui è la barra di domani misura 140 pips poi abbiamo una barra piccolina che misura 70 pips ok poi ne abbiamo un'altra piccolina che misura 60 poi un'altra piccolina che misura 60 un'altra piccolina che misura 70 eccolo qua allora ritorniamo un attimo a noi facciamo così togliamo via il numero di pips facciamo così disegnino facilino facciamo questo ok quindi nel momento in cui io ho un movimento molto direzionale per me significa che la volatilità che per me come significato è range massimo minimo di una giornata o di più giornate quindi facciamo 0 100 0 100 quello è il range è la volatilità per me quindi trecane dice misura della variabilità dei prezzi io dico come dire spazio tra lo 0 che è il massimo di giornata e il 100 che è il minimo di giornata o il contrario quindi tutto quello che c'è in mezzo dal massimo al minimo è volatilità se io ho un mercato che per me come trader sto dicendo come la guardo io se io quindi ho un mercato che in due giorni in due pensiamo al forex in due in due barre misura su euro dollaro per esempio 300 pips 300 pips qua e qua se succede questo per me quel mercato sta aumentando la volatilità quindi c'è grande volatilità come adesso vedremo e come probabilmente se avete visto se avete già tradato e avete già guardato i mercati la volatilità non rimane sempre identica cioè non è praticamente impossibile che un mercato continui a fare così tanti pips nella stessa direzione per all'infinito c'è un momento in cui lui si ferma tende ad abbassare la volatilità quindi se io vado a prendere qui ok 100 pips 150 pips qua ne ho fatti 250 e questo inizia a fare 70 60 60 50 dicendo in questo frangente qui si è abbassata la volatilità ok ci siamo facile perché si crea una compressione di volatilità io ho bisogno prima di tutto di un abbassamento di volatilità ok quindi io ho bisogno di questa situazione ho bisogno di quello che vi sto facendo vedere qui ho bisogno che dopo un movimento direzionale con grande volatilità eh lui abbassi ok già qui probabilmente no per me si crea una compressione di volatilità quando uno abbassamento della volatilità quindi abbassamento abbassamento vola due ho bisogno di un range di prezzo che rimane schiacciato senza creare un trend almeno per tre barre consecutive o maggiore quindi che si crei un mini box laterale perché perché potrebbe essere che guardate io sono in trend c'è una grande volatilità grande volatilità e poi il mercato l'abbassa ma continua questa è abbassamento di volatilità ma non è compressione di volatilità per me queste cose qui parentesi sempre non si leggono sui libri cioè queste sono cose che ho imparato e che mi sono costruito e creato col mio vestito per fare trading dato che io sono un trader privato professionista da tanti anni e mi sono creato il mio vestito avete capito cioè quindi non è che io queste cose le ho lette nella nel libro quello che chiamano la bibbia che poi perché la bibbia comunque e il marfi no quelle cose chi se ne frega poi magari si si parla anche di compressione ce l'ho anch'io quel libro però questa roba qua poi magari quel libro ne parla anche in modo diverso le compressioni vi dico il mio modo no di vedere questo tipo di di dinamica di prezzo quindi questo abbassamento di volatilità seppur magari per altri può essere compressione per me non lo è non è una compressione di volatilità che mi interessa ok quindi la caratteristica seconda eccola qua io devo avere un mini mini perché c'è bassa vola box laterale ovviamente perché abbiamo detto che rimane lì mini box laterale quindi da una da range di pips facciamo facciamo esempio che siamo sul forex massimo e minimo di giornata ampio si inizia ad avere un range più basso e da tre candele tre comprese ovviamente da tre candele dalla terza in avanti possiamo definire questa una mini compressione di volatilità che può essere utilizzata per il trading questo per quanto mi riguarda quindi almeno tre candele quindi terza caratteristica se vogliamo dobbiamo avere almeno tre barre almeno cerco di scrivere bene non è facile però a me fare le slide almeno tre giorni facciamo days ok perché stiamo sul daily ecco io ecco faccio un altro un altro appunto per chi magari segue per la prima volta un corso mio arduino schenato io opero esclusivamente su grafici giornalieri e settimanali questo si può anche creare su settimanale days week e quarta cosa che però è un più che possiamo mettere spesso quindi non è una caratteristica no non stiamo parlando di trading system qui spesso forma all'interno di questi mini range mini box laterali forma delle cosa qualcuno lo sa delle inside bar quindi può succedere che all'interno di questa di questo mini box si creino delle barre inside che sono appunto quelle giornate che hanno massimo e minimo all'interno dei massimi e minimi precedenti quindi si crea ancora più compressione può capitare capita spesso come ho detto qui capita spesso quindi ripetiamo adesso andiamo nei grafici ma prima di andare sui grafici volevo un minimo di teoria perché così quando andiamo sul grafico e vediamo degli esempi degli ultimi 12 mesi di euro dollaro andiamo a vedere un attimo anche perché devo ancora spiegarvi delle cose quindi prima di tutto abbassamento di vola ho bisogno che per avere una compressione si abbassi il range massimo e minimo di pips seconda cosa non può essere continuativo continuare il trend se no non è una compressione per me è si abbassa la vola e basta ok da qui magari potrebbe boom ripartire al rialzo per esempio oppure fare un'altra barra forte giù al ribasso non c'è compressione non mi interessa mini box laterale eccolo qua 3 devo avere almeno 3 giornate o maggiore su daily weekly ovviamente c'è 3 giornate 3 barre su daily weekly 4 spesso formano su questi range ci sono queste compressioni ci sono dell'insight ok queste qui è per riconoscere una determinata dinamica di prezzo ottimo dice davide benissimo ok bene detto questo io posso cancellare vero ragazzi posso cancellare quello che ho messo i vostri appunti li avete presi e adesso vediamo come utilizzarle nel trading invece queste dinamiche di compressione ok via ho preso gli ultimi 12 mesi di euro dollaro vuol dire 12 mesi vuol dire che eccolo qua vedete da linea blu in blu oggi è il 15 di febbraio ok 15 ho messo dal 15 al 15 del febbraio dell'anno scorso quindi proprio 12 mesi ho preso tra i mercati questo è uno di quelli che faccio l'altro io ho anche uno short qui in questo momento sto short però ho cancellato la possibilità che si vedano le operazioni sulla piattaforma pro real time così non si crea confusione ok tra l'altro domani se venite alla turbo trading room dg alle 3 sarò io su youtube la vedremo anche l'operazione perché l'ho fatta anche con i turbo tra l'altro oltre che con i cfd quindi la vedremo allora come utilizzare nel trading questo tipo di compressioni di vola allora io vi devo dire delle cose prima di vedere questi esempi perché altrimenti non ha molto senso poi possiamo vedere anche degli altri se c'è tempo per carità allora io per utilizzare queste compressioni quando si comprime prezzo attendo sempre un segnale di trading quelli che io chiamo trigger dei miei quali sono i miei sono ovviamente oggi non è che possiamo andare a fare ne abbiamo comunque un sacco li trovate sui vari corsi che trovate sul mio sito li trovate sul canale youtube svariati webinar e pillole li trovate sul canale youtube digi fatti da me quindi ve li dico così un po' rapidamente la ftv vabbè quella è la mia strategia diciamo cardine creata da me e poi abbiamo le pin bar abbiamo i doppi massimi i doppi minimi higher e lower close abbiamo le inside fake out e abbiamo le trap bar le bar trappola ho fatto proprio un corso qui con voi a metà dicembre e tutti questi questi trigger qui va bene questi sono un po' i principali diciamo le inside anche in realtà anche se le inside io tendo a non tradarle sapete preferisco l'inside fake out cioè il fake dell'inside ma comunque anche durante quest'anno magari potremo anche rifare dei webinar dei corsi relativi ad alcuni trigger relativi ad alcune dinamiche che so che molti di voi insomma vogliono vogliono avere anche per aggiornare un po' certe cose mi fa piacere ecco come le utilizzo io attendo sempre un segnale dicevamo un trigger di questi all'interno o subito fuori dalla compressione che dia trigger meglio se alla continuazione di trend della gamba precedente meglio questo non opero per forza nella direzione che brecca ma dove noto la falsa rottura quindi opero solo in presenza di trigger post compressione di vola ripeto ci siamo attendo un trigger dei miei pin bar doppi minimi doppi massimi ftv questi qua no trap bar all'interno o fuori subito fuori dalla compressione e spesso in continuazione di trend quindi ripeto non opero per forza nella direzione che brecca come vedremo ma solo dove noto una falsa rottura quindi opero solo in presenza di trigger post compressione di vola ci siamo? ho ripeto due volte adesso andiamo a vedere allora qui partiamo da partiamo da partiamo da partiamo da andiamo indietro andiamo ovviamente dall'inizio dal 15 gennaio dal 15 febbraio dell'anno scorso tiro via un attimo da qua così vedete meglio faccio così e io ho segnato la prima ovviamente adesso io tiro via questo così voi capite meglio quello che io sto dicendo ecco qua allora che cosa succede andiamo a vedere guardate il movimento che c'è qui e il mercato come si è poi compresso quindi noi abbiamo una prendiamo le ultime 3-4 barre prendiamo questa barra a 120 pips high low lo vedete lo vedete sul vedete high low 1.05 0.0 120 0 no? sono 120 pips andiamo a vedere qua boom high low 88 pips high low 89 pips high low 63 pips high low 51 high low 62 high low 62 quindi noi abbiamo guardate nel movimento una mini compressione di 3 candele quindi c'è stato un movimento comprensione di 3 candele guardate cos'è successo all'interno in questo caso quello che dicevo prima della compressione movimento verso l'alto ritesta dei massimi della compressione e butta giù in questo caso qui si ha a che fare con una dinamica di continuazione della tendenza precedente compressione di volatilità in range non c'è direzionalità rimane lì fermo un po' su un po' giù ok non c'è continuazione così bassa volatilità ma rialzo c'è un po' rialzo un po' di basso e poi c'è che cosa questo che è una pin bar che ritesta i massimi in questo caso io posso definire questa lateralità questa compressione una compressione di volatilità su cui si può operare e quindi potrò optare per vendere nel momento in cui brecca al di sotto con uno stop che deve essere sempre almeno o il 50 o il 100% della volat quindi in questo caso per esempio almeno uno stop là sopra ok ma oggi non voglio parlare di stop non voglio parlare di cost perché ne abbiamo già parlato un sacco di volte ne riparleremo oggi l'argomento è cercare di farvi entrare un po' nella mia testa quando vedo questo certo questo tipo di dinamiche questo certo tipo di dinamiche quindi in questo caso non ci saranno tutte non ci sarà in ogni compressione la possibilità di entrare ve lo dico già è così quindi questa è qua poi andiamo a vedere qua guardate cosa succede altra compressione di volatilità guardate eccolo qua quindi il mercato aveva fatto una gamba qui poi giù una gamba qui e poi inizia a abbassare la volatilità guardate soprattutto già da qui in realtà ma se io volessi prenderei principalmente queste 3-4 candele che rispetto ai movimenti precedenti di grande vola sono molto più piccoline soprattutto queste ultime 3-4 guardate qua 75 qui abbiamo 48 addirittura qui 57 qui abbiamo 54 guardate dove arrivavamo la volatilità alta 116 arrivavamo non serve neanche vedere le 115 poi inizia ad abbassarsi quindi abbiamo praticamente un abbassamento della vola in lateralità rimaniamo lì e si abbassa la vola quindi in questo caso il mercato aumenta poi la vola e rientra che cosa è successo qui per chi conosce un po' le mie strategie questa è una doppia un doppia informazione di prezzo quindi qui c'è la la compressione io non entro come spesso si no breakout della compressione non mi interessa breakout della compressione non mi interessa io guardo così dicevamo prima non opero attendo il trigger dei nostri all'interno subito fuori della compressione non opero per forza nella direzione che brecca ma dove noto la falsa rottura cos'è questo? è una trap bar eccola qui verde che viene triggerata qui sotto e anche un doppio massimo lower close con quella rossa quindi è un nostro segnale che arriva fuori dalla compressione cioè lui esce io non entro a breakout non esiste mi fa il rientro e qui allora per me è un qualcosa di interessante ok? dopodiché andiamo avanti altra compressione di volatilità guardate qui mercato che dopo un grande movimento inizia ad abbassare la vola anche qui però qui vabbè facciamo facciamo una cosa insieme questa e questa quindi questa guardate l'abbassamento di volatilità eh lo vedete guardate queste barre rispetto a queste come range massimo e minimo eh è ampio ma questa è piccolina ma è in continuazione è grande il tutto qui lateralizza ed abbassa la volatilità lui in questo caso non ci fa far nulla sinceramente vi dico la verità cioè lui rompe qui poi si rialza questo è un outside bar potrebbe essere interessante vendere qua sotto no? ma in realtà poi lui continua e fa un'ulteriore ehm un ulteriore ehm abbassamento di vola e compressione guardate qua questa quindi qua rinizia aumenta la vola con questa con questa e con questa aumenta tantissimo guardate come si restringe avete visto qui? quindi noi abbiamo questa barra di giovedì 14 aprile 22 che è di 165 pips questa che è di venerdì 15 aprile per te che cancello un po' di freccine qui se no non vedo più niente è di 28 e 9 29 pips qui abbiamo detto 165 29 ok? qui abbiamo 51 qui abbiamo 53 e poi riparte no? quindi qua riesce l'altra compressione eccola qui eh? fuori usciamo dalla compressione io non entro sul breakout abbiamo detto non entro sul breakout della compressione fam eccolo qua e cosa succede? succede che qui ci fa un FTV pin bar nella tendenza ovviamente del movimento precedente quindi anche questo mia compressione che trovo io non vado a comprare buy stop sell stop quindi ordine pendente sopra o sotto la compressione come magari posso insegnare i libri di analisi tecniche non lo so io non utilizzo quel tipo di approccio ma utilizzo la mia price action personalizzata da me ed ecco qui no? eccolo qui la pin bar quindi nella nostra classificazione abbassamento di vola rispetto ai giorni prima range di prezzo che rimane schiacciato senza creare un trend ovvero mini box laterale almeno tre barre o maggiore spesso forma delle indecision delle inside bar eccole qua guardate qua inside bar di questa come la utilizzo? attendo ok? un segnale eccolo qui all'interno o subito fuori dalla compressione e non opero per forza nella direzione che brecca come in questo caso qui brecca al rialzo ma dove noto la falsa rottura guardate qua c'è tutto avete capito? anni anni e anni di mercati davvero eh? perché le compressioni nessuno ve le spiega così compressione per l'analisi tecnica è ta compressione brecca dove brecca no per me no quindi c'è lo studio precedente c'è questa dinamica io aspetto il trigger e poi vedo che succede ok? ancora anche qui guardate compressione di volatilità quindi si abbassa la volatilità qui non ci sono non c'è nulla non avrei fatto niente sinceramente vi dico sinceramente questa è la prima in realtà questa se vogliamo è anche un FTV questa quindi c'è questa è la trap bar però vabbè non voglio poi risultare incasinato oh questa guardate qui guardate questo questa è una compressione il mercato aveva mosso con delle candele alta volatilità si abbassa notevolmente inizia a lateralizzare molto forte qua questo range molto ristretto anche rispetto a quelli precedenti che comunque non erano enormi ma molto ristretto ancora vedete e non è solo ristretto quindi bassa volatilità ma anche lateralità box box laterale quindi box laterale più bassa volatilità uguale compressione di volatilità almeno tre barre poi ce ne sono quattro cosa succede successivamente eccolo qua doppio massimo lower close uno dei miei trigger allora se andate anche sul mio canale ma anche quello sui G sul mio canale c'è una playlist che si chiama corso price action è completamente gratuito cioè sono degli webinar dedicati ai doppi massimi doppi minimi doppi massimo lower close doppio minimo non c'entra niente quel doppio massimo doppio minimo analisi tecnica tanto per farvi capire quindi se volete potete consultare nella playlist andate sul menu del mio canale youtube playlist trovate corso price action corso price action una cosa del genere e lì ci sono tanta video spesso poi vengono anche aumentati perché io ne faccio ogni tanto e lì trovate i corsi addirittura sui doppi massimi doppi minimi per esempio poi c'è scritto anche dei libri ci sono un sacco di cose anche sul sito doppio massimo lower close avete visto? quindi siamo assolutamente in linea con il nostro piano con la precisa diciamo idea di quello che noi vogliamo vedere quando succede una cosa del genere quindi compressione di vola mini box laterale di almeno tre barre spesso forma anche delle inside in questo caso non sono proprio delle inside però sono spesso e io opero non per forza nella direzione che brecca in questo caso magari potrebbe essere che abbia breccato prima il rialzo vedete qua su ma ma dove noto la falsa rottura quindi aspetto la close di giornata è molto importante ovviamente e poi posso decidere se farci magari un trade short no? con l'obiettivo magari poi vabbè il minimo anche qui non sto parlando di stop di cose sapete che io per darvi ecco così uno spunto solitamente lo stop lo metto almeno almeno o il 50% della vola del trigger o il 100% della vola del trigger quindi lo stop o qui o qui mai prima mai troppo attaccato ok? va bene? benissimo andiamo avanti oh fate domande eh se cioè io sono qui altra compressione di vola quindi in questo caso è post ritracciamento il mercato ha mosso in vola aveva abbassato neanche tanto in una candela quindi non sono tre poi qui inizia ad abbassare guardate qua da qui una due tre quattro cinque sei sette otto e qua inizia quindi otto candele di abbassamento di vola direi laterale no? guardate qui molto laterale in questo caso lui praticamente brecca però continua quindi non era semplicissimo qui trovare uno spunto se vi devo dire però è un qualcosa che magari sa solo chi ha fatto i percorsi con noi ha studiato magari il nostro corso FTV le nostre cose chissà sa che questa qui è un FTV power quindi questa quando noi quando io vi ho detto come utilizzare nel trading attendere un segnale dei nostri all'interno o subito fuori la compressione eccolo qua questo è all'interno della compressione di vola forma questo trigger nella direzione della gamba precedente diciamo che chi è un po' più smaliziato personalmente ecco io questi trader li posso fare ovviamente però adesso qui era anche per darvi delle idee un po' più meno così meno sofisticate se vogliamo meno avanzate questo magari chi non è un addetto ai lavori IR Forex o comunque non è un nostro una persona un trader che magari è con noi da un po' di tempo che ormai ha studiato certe cose lo vede assolutamente questo però per chi all'inizio inizio qui magari no ok va bene non è che si può prendere tutto comunque sul mercato prendiamo quello che riusciamo qui non ho segnato nulla perché c'è lateralità ma non c'è abbassamento di vola avete capito per almeno tre candele cioè la vola rimane sempre molto alta anche con degli spike quindi io questa situazione non la vado a a prendere ok poi c'è stato questo queste queste due per esempio no guardate un po' qui eccolo qua qui dopo un movimento di vola si è creata un abbassamento di vola di almeno tre candele e poi guardate pin bar questa è una pin bar short quindi anche qui si poteva vendere qua sotto se voi andate a utilizzare i classici stop cosa fate andate qui andate a stop bravi io invece magari usando delle tecniche di paracadute che mi sono creato mie guardate qua se mi metto al 100% della vola non mi prende mai ecco perché utilizzo queste tipologia di paracadute non metto mai chi mi conosce chi è con noi nel platino questo servizio operativo didattico che noi abbiamo con i Airforex molti di voi sono qui e lo sanno io utilizzo degli stop paracadute i stop ampi ok non utilizzo stop stretti quindi per me lo stop è proprio un paracadute quando mi cambia completamente la view e non è che mi cambia perché esce un po' dal massimo non è questo va bene ancora anche qui guardate questo che bello questo è bellissimo questo c'è un movimento super di volatilità abbassamento di vola in 4 giorni e doppio anzi FTV questa insomma la conoscete per chi la conosce FTV abbassamento di vola FTV follow the winner boom movimento quindi stiamo tradando la compressione di volatilità ok va bene anche questo questo è intradabile per esempio anche se qui guardate sempre per un occhio esperto della price action insomma un po' meno non tradabile guardate qua movimento la gamba qual è? è questa è long ritraccia abbassa la vola una due tre candele nella nell'affermazione che ho fatto prima riguardo a come utilizzare nel trading cosa ho detto? ho detto attendere un segnale dei nostri all'interno della compressione o subito fuori non opero per forza nella direzione che brecca ma dove noto falsa rottura ovviamente bisogna aspettare la close di giornata dove avete noto la falsa rottura? qua sotto minimo più basso doppio minimo higher questo è un doppio minimo higher nostro trigger nella gamba precedente capito? ancora e gli ultimi due eccoli qua uno tra l'altro è attivo ora guardate qua interessante compressione di vola quindi questo cammiamo via via se riusciamo magari siamo bravi compressione di svariate candele fuori esce rientra aumenta la vola e poi guardate cosa costruisce qui la classica trap bar movimento tra l'altro poi anche un doppio minimo higher successivo guardate che roba non si entra sul breakout ma subito successivamente qualche candela dopo anche la candela dopo stessa cosa vale per questo su cui tra l'altro ho un piccolo trade in questo momento a mercato dove si è abbassata la vola negli ultimi tempi quindi movimento abbassa la vola ieri si è formato una falsa rottura al rialzo pin bar oggi breccata e oggi addirittura sembra formare anche un FTV power quindi conferma ancora quindi da qui magari il mercato potrebbe farsi 1.05 nei prossimi giorni ok ci siamo ma intanto non vi ho annoiato perché vedo che siete ancora praticamente tutti quindi mi fa molto piacere non vedo molte domande ne leggo una che è di Davide che dice troverò la registrazione guarda non so ancora se metteremo questo video su youtube o sul corso price action del sito non lo so quindi vedremo vedremo un po' mentre Michele dice i valori di volatilità dei box sono assoluti no non facciamoci schemi tu sei anche un platinum non facciamoci schemi ok quindi io non guardo neanche i pips li guardo occhio nudo li vedo ok quando vediamo che la volatilità si restringe si restringe e si crea una lateralità quindi deve essere abbiamo detto le caratteristiche sono abbassamento di vola rispetto ai giorni prima range di prezzo che rimane schiacciato senza creare un trend ovvero un mini box laterale almeno tre barre stop poi è ovvio che se io ti metto questi paletti tu mi crei il trading system e non abbiamo capito nulla perché stiamo facendo un trading sistematico il mio è un trading discrezionale quindi deve essere un capire e ragionare su quello che è sul mercato in quel momento ok va bene quindi 60 70 se un mercato in un momento per esempio quando c'è stato il covid tutti i mercati avevano aumentato la vola l'euro dollaro viaggiava a 70 80 pips di media al giorno 90 ne faceva 180 al giorno è ovvio che si abbassa la vola anche se ne fa 110 e abbassare la vola la forza della price action è la discrezionalità il ragionare su quello che è la dinamica di prezzo di quel momento ok ci siamo allora vedete questo qui è un trade che ho in atto in questo momento vi faccio vedere se riesco a mettere questo visualizzazione grafici qua così eccolo qua un piccolo trade vedete 200 dollari di rischio quindi un piccolo trade che ho anche così poi ce ne ho c'ho anche un trade con i turbo tra l'altro domani magari lo vediamo stesso trade identico però l'ho fatto anche nel conto turbo è un po' più grossino nel conto turbo ma insomma vedete dove metto lo stop io io lo stop non lo metto qua io lo stop lo metto ampio ma ampio ampio a volte anche molto più ampio se vi faccio vedere una posizione sul gold sull'oro anche questa l'ho condivisa con i platinati guardate qua io sono entrato qui altra mini compressione di volo a tre candele fuori uscita e rientro guardate dove ho lo stop il mio stop addirittura è sopra i massimi settimanali avete capito? cioè io gli stop li metto ampi è tanto per far capire come lavoro io con gli stop poi non vorrei entrare nella 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 situazione di rischio rendimento tutte queste cavolate perché sono delle cavolate io faccio treni di professione da tanti anni e insomma sono passato anch'io su quegli step però non parliamo di rischio rendimento per favore perché su questo ovviamente poi c'è da fare un grande un grande no un grande addirittura un webinar si potrebbe fare allora Diego dice esperienza e tanta pazienza e per rilassarsi la sera camomilla bravissimo bravo Diego attività fisica respirazione stretching tutto quanto bisogna essere molto per far trading ragazzi bisogna essere sempre molto sereni perché sono sempre decisioni che si vanno a prendere quindi la decisione di aprire un'operazione o di non aprirla di fare una certa cosa di cercare l'obiettivo insomma sono tutte dinamiche che dobbiamo mantenere sempre a cui dobbiamo mantenere avere fare insomma avere frequentemente fare frequentemente fare come routine ecco questo non mi veniva la parola allora Jonathan intanto Stefano ci dice ottimo Jonathan dice il 28 marzo prima del segnale che ci hai spiegato c'è una piccola pin fake out l'avessi tradata grazie ma forse sì però non è il tema no cioè io sto parlando di di compressioni di vola però andiamo a vederla perché magari c'era una compressione lì dentro adesso magari 28 marzo hai detto no 28 marzo 28 marzo no 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 era quella che ti ho detto no no assolutamente no qui in mezzo c'era quella che ho spiegato prima questo avrei tradato questa no questa potrebbe aver generato un movimento c'era una gamba però era molto rischiosa io non l'avrei mai fatta questa cosa c'era compressione avrei fatto ecco nella mia idea di entrare nella direzione non nella direzione per forza che brecca ma dove è noto la falsa rottura eccola qua c'era tutto un movimento che creava la falsa rottura quindi aumento di vola con falsa rottura ok Jonathan Leonardo dice quindi è soprattutto un eventuale pin bar che conferma questa struttura no volete per forza avere uno schema fisso non dovete ragionare per schemi fisso fissi per la play section ok non voglio essere drastico o sembrare antipatico ma voglio essere efficace per la vostra formazione con questa metodologia ok quindi dovete cercare di togliere gli schemi pin bar falsa rottura ok falsa rottura Leonardo ripeto avete a disposizione dei servizi molto 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 autentici professionali come il mentorship platinum la scuola di price action trading platinum che sono didattici molto didattici poi avete anche i corsi seguite se vi piace questo tipo di cose seguite non siamo dei no perché adesso purtroppo è pieno di ragazzetti che fanno le cose del trading no qui si parla di una persona che insomma è da un po' di tempo che faccio queste cose e quello che vi dico vi assicuro che sono cose che funzionano a me e funzionano a molte altre persone che nel tempo ci hanno dato fiducia bisogna però essere come dire avere la pazienza e sapere che ci vuole tempo ok ragazzi noi comunque vi mettiamo a disposizione un sacco di strumenti per poter un po' alla volta capire queste cose ovviamente con un webinar io non sono quello che vi dico ah con un corso diventate con due mesi di trading con una no no ci vuole tempo ci vuole tanto tempo ok è speso nel modo giusto e c'è gente che dice ah è 15 anni che faccio trading ho bruciato un sacco di conti ma ma perché perché oppure c'è la credenza che io devo per forza guadagnare perché comunque ho bruciato un sacco di conti ma che credenza è no ma non ci siamo se noi cerchiamo di fare come dire di studiare e di applicarci e di acquisire le giuste competenze nel tempo senza bruciare conti o cose ci arriviamo lo stesso a far trading bene anche c'è un po' questa questa distorsione che vabbè allora Franco dice un indicatore di volatilità da abbinare a questi ragionamenti io non uso indicatori Franco io non uso indicatori il mio grafico è bianco è così a volte non c'è neanche la media mobile a 21 esponenziale se volete saperlo date importanza alle cose importanti non agli indicatori l'indicatore qui ce l'avete già è il prezzo ed è l'indicatore più importante poi il resto sapete dove dovete andare a studiare? voi stessi questo è importante se voi sapete come ragioniamo come ci arrivano le emozioni siccome quando clicchiamo il mouse è tutta ci arriva tutto dalla nostra testa dal nostro cervello se noi sappiamo gestire quello che ci arriva vedrete che se abbiamo competenze poi tecniche in questo caso nel mio caso la price action il trading con la price action vedrete che sapete gestire benissimo il vostro trading eh? importantissimo questo davvero eh? ve lo dico col cuore ragazzi non lo dico perché no è così ovviamente a livello no vi arriva di più quello che vi dice ah faccio il corso vi insegno la tecnica il segreto del no non c'è nessun segreto non c'è nessun segreto allora Simone dice lezione di altissimo valore come tutti i tuoi webinar intanto io ti ringrazio Simone poi Simone l'ho conosciuto abbiamo fatto il Platinum Meetup e ti ho conosciuto e l'abbiamo anche mangiato insieme se non mi ricordo male ho comunque eh platinato Doc Simone grazie mh tra l'altro tra un mesetto non è ancora fuori la pagina faremo il price action trader day edizione 2023 il Meetup annuale a Bologna a maggio quindi insomma ci saranno un po' di di cose interessanti quest'anno eh qui poi c'è Stefano che dice scusa Ardu se la compressione è sul weekly dopo cerchi l'entrata su daily e entri su weekly grazie bella Stefano bella bella giusto giusto questa è una domanda corretta questa è una domanda che mi piace ma guarda allora sì si può andare sul weekly e si può tranquillamente vedere un sacco di cose eh per esempio no qui vedo vedo un po' di compressione mh o qua anche qui diciamo che io tendo proprio a fare proprio l'operazione in sé cioè cliccare da trigger che arrivano sul daily quindi difficilmente proprio vado direttamente sul weekly il weekly mi dà l'indicazione della della direzionalità della struttura quindi come dire mi dà il piano no mi dà la è la bussola è un po' il google map è un po' il il navigatore che mi dice guarda che da Rovigo dove vivo io ho il mio ufficio a Milano eh ti conviene passare per Verona Brescia Bergamo eccetera piuttosto che andare fino a Roma per poi tornare su da Firenze e andare a Milano no è questo che mi dice il mio il mio navigatore che è il mio grafico weekly e quindi io tendo poi a andare direttamente sul sul grafico su grafico daily quindi preferisco fare questo per quanto riguarda le compressioni eh per quanto riguarda altre tipologie di dinamiche di prezzo trigger swing eccetera eccetera può succedere che vado direttamente su weekly soprattutto se c'è una situazione molto chiara a livello strutturale allora può e anche dipende un po' dal mercato posso anche andare direttamente su weekly per questo tipo di dinamiche no solitamente a meno che non ci sia poi è sempre è un no generale no che a me non piace tanto parlare in generale no perché poi il mercato è fatto di sfumature e a me piace andare su queste sfumature lavorare su questi dettagli però in generale ti dico di no non vado sempre poi sul daily e sul daily cerco di trovare gli spunti necessari gli spunti buoni per fare delle cose va bene allora Antonio mi chiede buonasera operi con le opzioni no 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 io sono un trader fai conto che ho 42 anni sono quasi a 43 purtroppo e opero da quando praticamente le prime operazioni le ho fatte intorno ai 25 anni ma erano cose tipo in banca robe così e sono sempre stato un trader direzionale quindi non un trader in opzioni che magari invece si lavora anche più sul tempo su queste cose perché perché poi mi sono creato il mio vestito mi sono creato le mie le mie metodologie quella che una parte una piccolissima parte ne abbiamo parlata oggi una piccolissima parte e ne ho sempre giovato ok quindi io ho iniziato a operare ovviamente ho fatto i miei studi le mie le mie evoluzioni ma mi sono subito trovato bene con il mio approccio quindi mi sono subito trovato in armonia tranquillo sereno sicuro no su quello che facevo e quindi non ho mai sentito la necessità di fare anche altro forse per questo poi Antonio riconosco che probabilmente le opzioni sono anche un ottimo strumento e tutto quello che vuoi ma io personalmente operando così opero bene faccio i miei obiettivi spesso li ho anche superati condivido la mia operatività appunto sul servizio Platinum di Airforex che trovate qui più che altro in ottica didattica per farvi capire come ho però molti di voi tra l'altro sono qui mi fa piacere vedervi e mi trovo bene così non ho non ho non sento la necessità di dover avere aggiungere altre cose al mio trading quando quando sto bene guadagno quello che per me è il giusto rischio è il giusto e non ho volatilità eccessiva nel portafoglio non ho drawdown particolari sono direi molto costante nei miei risultati quindi per me va bene così quando sentirò il bisogno probabilmente di andare su altro magari ci sarà non lo so però al momento tanti anni e ho conosciuto anche tanti opzionisti ovviamente per farvi pensare io faccio faccio anche coaching one to one ho fatto negli anni ne faccio molto meno ormai però quando ero nell'altro ufficio ricordo insomma gente che veniva a tutta Italia e non solo tutta Italia anche una settimana intera da me in ufficio a fianco a me e ho conosciuto tanta gente anche professionisti che sono venuti da me negli anni che facciano maglie opzioni volevano avere delle strategie per il trading direzionale molti addirittura poi fanno anche i formatori che sono venuti da me ve lo dico non dico i nomi ma molti sono venuti anche da me e quindi ne ho conosciuti di opzionisti e riconosco che insomma può essere un bellissimo mondo io personalmente non lo faccio però ok non perché non lo faccio io sicuramente è un bellissimo strumento Maurizio dice buonasera la compressione può essere utilizzante utilizzante la compressione può essere utilizzata forse vuol dire anche su time frame più piccoli per esempio H1 no 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 perché dovete andare sulla H1 quando avete un daily guardate questo qui è una candela a un'ora fatta di scusate sono 24 candele a un'ora e vi dice già tutto anche questa guardate ieri 24 candele a un'ora e vi dice già tutto e io entro short e vi faccio il mio trade e guardate un po' guardate vi faccio vedere vi prendo una vi faccio vedere una cosa oggi l'ho fatta in trading room platinum però voglio farla vedere anche voi oggi i motivi per cui non faccio il trade sono molti ok tra cui uno anche che è matematico ve lo posso fare è l'ultimo esempio tanto manca poco alle 7 ma chi se ne frega eh ve lo posso fare avete voglia di vedere questo esempio anche per rispondere a Maurizio ottimo Stefano allora prendiamo io sono un trader anzi sono un price action trader ecco allora io sono stato non voglio fare quello che io sono stato però è la verità sono stato il primo in Italia che ha parlato di price action eh tantissimi anni fa nel 2009 col blog inizialmente poi nel 2010 col sito ho fatto il primo evento al Michelangelo di Milano ancora nel 2009 novembre 2009 eh proprio dedicato alla price action quindi persona quindi di price action un pochino ne so ok quindi eh oggi è un po' è un po' inflazionato questo questa parola price action però il price action trader è colui che opera su time frame alti daily weekly può esserci un 4H solo a conferma di un daily ok quindi io che cosa faccio lavoro su principalmente guardatevi faccio vedere su questo 1 2 3 4 5 copie di valute un paio di materie prime oro e petrolio e qualche indice S&P Nasdaq Germania Italia stop ok non faccio tante cose eh tac quindi cosa succede succede che io ve lo dico proprio personalmente faccio in media faccio in media eh prendendo tutti questi mercati il mese scorso comunque prendendo in media gli ultimi 4 anni faccio in media 8 trade al mese ok prendiamo un trader intraday neanche uno scalper ok un trader intraday ditemi voi un trader intraday normale quindi uno che opera su 15 minuti 30 minuti un'ora più o meno dal 5 15 30 un'ora più o meno no trader intraday eh ditemi più o meno quanti trade al mese fa un trader intraday ditemelo voi che voglio aspetto la vostra risposta eh sui 40 Stefano dice cioè 40 trade in un giorno Stefano ma penso un po' meno ah al mese no 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 al giorno vorrei sapere al giorno quanti ne fa al giorno al giorno 40 al giorno no sono troppi diceva al mese possiamo anche fare una divisione ma al giorno essendo un trader intraday il trader intraday cosa fa cerca opportunità durante il giorno e le chiude a fine giornata già si limita in questo caso in questo caso voi provate a pensare un trader intraday si limita perché non fa correre profitto avete capito cioè si limita questo non è che lo dico solo io lo dice anche il grande Larry Williams cioè si si limita nel profitto allora qualcuno dice una cosa qualcuno dice io vedo più o meno noto che la media che voi mi state scrivendo qui nella chat è 7 no avete scritto alcuni avete messo un po' di più eh facciamo 7 potrebbe essere dai 6-7 al giorno qualcuno mette 5-6 bene o male no 7 potrebbero essere 7 trade se hanno qualche mercato 7 trade mattina e pomeriggio voglio dire no 7 trade ok quindi facciamo 7 trade al giorno che è quanto al mese se noi prendiamo 21 giorni di mercato mediamente per 7 trade sono 147 trade al mese ok questi quindi abbiamo detto 7 trade al giorno per 21 giorni di mercato aperto sono mediamente 21 ve lo dico io 147 li mettiamo qua 147 trade al mese quindi adesso io non sto neanche andando per rispondere a Maurizio che mi ha chiesto se vado ad utilizzare i time frame più piccoli io ho detto di no 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 tre volte e adesso l'ho detto altre tre quindi 6 uso una cosa matematica per farvi capire quanto è svantaggioso però io potrei dirvi che anche la price action su time frame più piccoli è meno accurata no potrei dirvi tante cose in più però sono più non voglio di filosofiche perché non è così però voi potreste come dire afferrarle in questo modo io voglio farvi proprio un esempio anche solamente di quello che vi costa allora 8 trade al mese benissimo mettiamo che noi mediamente mediamente con IG abbiamo lo spread no denaro lettera mediamente con IG abbiamo facciamo esempio uno una commissione finale di cosa mettiamo facciamo esempio ovviamente che i due trader tutti e due abbiano un capitale di 10.000 euro 10k tutti e due quindi un capitale piccolino non che si può vivere i trading ma comunque qualche soddisfazione si può anche prendere ok quindi abbiamo questi 10k bla 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 mediamente con IG abbiamo una commissione finale facciamo per il tipo di size che utilizziamo di quanto un euro per me sì assolutamente sì anche meno in realtà eh io vi dico anche meno però un euro qui il trader intraday mediamente mediamente ha una commissione di quanto allora noi teniamo un euro in realtà è di più sapete perché? perché mediamente chi fa un trading intraday ha degli stop più piccoli e utilizza una leva maggiore quindi una size più grande quindi se io utilizzo invece di una size di non so un euro a punto o di due euro a punto e io ho facciamo esempio utilizzando una size di due euro a punto sull'euro dollaro e ho uno spread di 0,6 sono un euro e venti no? mediamente due per sei dodici un euro e venti ma chi va sull'intraday avrà molto di più di questo perché magari invece di usare due euro a punto usa sette euro a punto dieci euro a punto vero? però io non voglio fare non voglio infierire tengo sempre un euro a punto facciamo esempio che entriamo con la stessa size dieci k di conto e questo è bene guardate qua il trader che il price action trader al mese di spread spende 8 euro ovvero 8 euro mese commissioni ovvero all'anno all'anno sono esattamente 8 trade al mese per 12 8 per 12 sono 96 trade quindi 96 euro uguale 96 euro anno che su 10.000 euro di conto quanto è? quanto influisce percentualmente 96 euro? lo 0 virgola quanto? 96 diviso 10.000 per 100 fa 0 96 lo 0 96% del mio conto se io sono un trader intraday che fa tutti quegli eseguiti giustamente faccio 7 al giorno cioè più o meno che è 147 quindi io cosa faccio? 147 per i 12 mesi fa quanto? boh andiamo a vedere 1764 quindi io spendo 1764 di spread di commissioni ok? che su 10.000 sono uguali a quanto? 1,76 no di più 17 17,64 quindi quindi io price action trader con un trade mi pago le commissioni di un anno 0,96% io trader intraday che fa 7 eseguiti al giorno con uno spread bassissimo tra l'altro devo fare almeno per andare a break even bene a fine anno il 17,64% del mio conto e poi inizierai a guadagnare Maurizio convieni con me che ti conviene andare sulla qualità invece che sulla quantità e lavorare su daily su weekly sono stato un po' un po' così matematico ma è questo quindi oltre a tutte le cose che dico sempre relative alla price action cioè al fatto che comunque la price action ha un'accuratezza grafica maggiore sul daily sul fatto che tutti i time frame sotto il giornaliero sono dei time frame creati dall'uomo per creare ordine nel disordine non esisterebbe cos'è? chiusura a 15 minuti che cosa che chiusura è? non esiste la chiusura della borsa invece è un'altra cosa la chiusura weekly e la chiusura di tutto il mercato della liquidità chiude veramente ok? in più a questo ci mettiamo che un trade in intraday che non va sulla qualità fa comunque ma metti anche che ne faccia la metà di questi trade ragazzi invece di farne 7 ne fa 3 al giorno comunque stiamo parlando di altre quindi io personalmente quando poi ho deciso di fare questo come lavoro ho anche messo insieme questi pezzi io ho fatto delle esperienze anche di trade in 3d anche abbastanza spinto voglio dire ho capito che in effetti ci sono degli svantaggi già con cui parti che sinceramente quando posso fare la mia vita tranquilla e riuscire a guadagnare comunque bene mi faccio la mia vita tranquilla e guadagno bene tra l'altro anche mettiamoci anche il fatto che voi provate a pensare a livello di stress e a livello solamente di decisioni che voi dovete prendere in un trading intraday rispetto a un trading multiday decisioni che vi costano denaro quindi decisioni che creano emotività quindi tutta questa sfera io non l'ho neanche toccata ho toccato solo una sfera esclusivamente numerica che già svantaggia pensate poi a tutte le varie sfumature che hanno che creano impatto va bene Maurizio dice assolutamente illuminante convengo con te sul tutto grazie bene mi fa piacere Maurizio Stefano dice sul bonus traders mindset day di Antonio è tutto molto dettagliato eccezionale regalo di Airforex grazie bene bene Stefano mi fa piacere mi fa piacere adesso abbiamo questo bellissimo weekend dove faremo la gestione emotiva sarà molto 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 approfondito e non vedo l'ora bene bene va bene ragazzi allora io spero di avervi dato un buon supporto quest'oggi sulle compressioni di volatilità ma anche alla fine vi ho tirato anche in ballo il trading con la price action e il trading classico insomma perché poi siamo un po' portati tutti a pensare che il trader deve essere colui che ogni giorno fa operazioni che lui è sempre davanti i grafici io sinceramente sono un trader mi sento assolutamente un trader al 100.000% che non si può dire ma lo dico lo stesso e sinceramente non sono sempre davanti i grafici e non faccio operazioni tutti i giorni costantemente voglio dire va bene allora leonardo lezioni altissimo valore complimenti grazie leonardo grazie diego grazie a tutti allora io vi saluto vi auguro una buonissima serata io ovviamente come al solito dopo cena mi faccio la mia camomilla quindi anche voi fatevi la vostra camomilla camomillatevi come mi piace dire vi auguro una buonissima serata chi è qui ed è un platinato ovviamente ci vediamo domani mattina alle ore 9.10 nella trading room del platinum che per chi non è un platinato vi ricordo che domani sul canale youtube di IG saremo io e credo Andrea a fare la classica turbo trading room con IG quindi sicuramente sarà bellissimo ci divertiremo magari parleremo appunto dell'euro dollaro che ho aperto anche di l'anno grazie a tutti un saluto a presto buona serata grazie a tutti grazie a tutti